E che dice? La diamo un po'? C'è un notaio? No, lei che ha un animo... Con tutto il rispetto, con tutto l'amore... E se no vale tutto qua! C'è la faccia schifata! No, non può valere... Parte avvantaggiato, però ha la faccia schifata, devo dire la verità... Mi dispiace, contesta al spasimante... Contesta a niente, la signorina trabocca di romanticismo e anche lei dovrà scegliere uno di questi cuori e vedremo se sarà o una poesia o una dichiarazione d'amore o un'altra cosa. Allora, quale vuole? La prima contiene una rima baciata, anche lei! Allora, la dedico... La dedica... Al mio presidente Stefano Natale A Stefano Natale! Bene! Allora, vorrei farti una carezza Per esprimerti, penso, la tutta la mia purezza Ecco! E lo faccio con moltissima dolcezza Allora, Natale, quando tu sia la monnezza! Sì, faceva rima anche con monnezza, però mi sembrava più carino Che dici? Siamo 1-0 per la... Hai capito? Il notario parteggia evidentemente per la signorina È spacciato, è spacciato, notaro No, no, è imparziale Anzi, notaro Sono cugini, però non partecipo per loro È imparziale, l'ho vista roggitare Per la femmina che parteggia lei Per la femmina, lei notaro qua, c'è sapere No, dica la verità No, andiamo avanti Lei se la roggiterebbe Allora, torniamo a lei L'ultima, l'ultima che cosa contiene? Una poesia E qua sono... Sono qua...